Salve a tutti ragazzi, ben tornati in questo nuovo video, sono Gene e oggi siamo tornati con un nuovo video questa è una nuova tipologia di video che vi voglio portare sul canale non sarà di gaming ma di recensioni, ne farò una ogni tanto e ho ricevuto per Natale questa cassa bluetooth, scusate per la visuale traballante un secondino, intanto con dietro lo sfondo di un lego distrutto di New York quindi adesso vi farò vedere il contenuto di questa scatola e vi farò vedere com'è questa cassa allora ragazzi per aprire questa cassa, questa cassa, questa scatola si devono premere due pulsanti, così, e dopodiché si può aprire scusate se sono un po' lento per aprirla, però sto registrando con una mano ecco l'altra, tengo e apro quindi troviamo all'interno la cassa molto carina anche con questo coso in cuoio e all'interno troviamo due cose i due oggetti sono un jack e un cavo per l'alimentazione, per caricare la cassa la batteria della cassa dura 8 ore e qua ci sono le uscite del jack e quello per caricare e quindi vi faccio ascoltare un piccolo pezzettino di un brano e poi andiamo alla recensione questo è il brano quindi questa cassa si può connettere al col bluetooth con qualsiasi dispositivo e nell'elenco dei dispositivi che hanno acceso il bluetooth vi spunterà Rockbox Cube però va accesa prima, qua sotto c'è il pulsante di accensione, adesso non metto a fuoco, vabbè e quando sarà connessa col bluetooth suonerà tipo un campanellino adesso passo alla recensione e quindi l'audio della cassa è molto molto buono il rapporto qualità prezzo anche e potete trovarla tranquillamente su amazon ma anche nei vari punti vendita è Ronix ovviamente questo è un produt placement e altre cose si può trovare quindi da Ronix tranquillamente la qualità dei materiali è anche abbastanza buona esteticamente così così ne ho viste di più belle casse bluetooth non mi piace solo questa parte qua ma vabbè i colori sono vasti però neanche questi mi piacciono molto io ce l'ho di questo colore ma sono tutti di tonalità pastello mi pare che si dica poi non mi intendo comunque questa è in conclusione un'ottima cassa per ascoltare musica o anche per vedere video amplificando il volume si può portare tranquillamente in giro anche se mi sta guardando qualche ragazzo ma credo di sì si può portare anche nelle gite si può tenere dentro lo zaino tanto si può connettere con il bluetooth e quindi è un'ottima cassa per ascoltare la musica si possono connettere anche tramite il jack delle cuffie per non far ascoltare la musica però si può ascoltare la musica della radio ma servono delle cuffie attaccate che devono fare l'antenna in più qua sotto c'è quadrato in gomma per impedire il movimento della cuffia quindi ragazzi quindi ragazzi con questo sottofondo musicale di ncs che vi consiglio per la musica vi saluto vi ricordo sempre che questa è un'ottima cassa rapporto qualità prezzo molto buono 30 euro mi pare che costi quindi noi ci vediamo in un prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto e se fosse così lasciate un bel mi piace commentate ovviamente no spam e iscrivetevi se non siete ancora iscritti ciao ciao